Bentornati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di atvreport.it. Partiamo subito con la cronaca. Si è reso responsabile di estorsione, furto ed altri reati connessi, per questo un 33enne tunisino è stato arrestato una nuova volta e dovrà rimanere in carcere a capanne per due anni e sette mesi. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine. E ieri sera si è inaugurato il nuovo Cinema Castello. Da oggi pomeriggio parte la nuova programmazione. Tutti gli orari li potete trovare nel nostro sito internet. E domenica la banda musicale Città di Umbertide partirà alla volta di Roma, appuntamento in Vaticano, dove la banda cittadina si esibirà assieme ad altre 30 bande provenienti da tutta Italia. Queste e tante altre notizie le trovate